Shock a Londra. È morto il figlio 23enne di Zamparini, ex presidente del Palermo Calcio. Armando era in Inghilterra per ragioni di studio. Le cause del decesso sono ancora da accertare. I genitori sono in viaggio per l'Inghilterra per raggiungere il figlio. Armando è l'ultimo nato a casa Zamparini, l'unico figlio del secondo matrimonio. Durante la gestione Zamparini della squadra di calcio del Palermo capitava spesso che Armandino, come lo chiamavano in città, si intrattenesse in campo a giocare con i calciatori rosanero a fine allenamento. Il cordoglio del Palermo Calcio. Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo FC si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando, figlio dell'ex presidente rosanero Maurizio Zamparini. Così il club rosanero esprime il proprio cordoglio, appresa la notizia della tragedia che ha colpito l'ex patron. Il ricordo di Armandino, è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in Viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze.